Ciao ragazzi, oggi è il 31 dicembre 2021, siamo arrivati alla fine anche di questo 2021 in questa divisione temporale che abbiamo deciso scandire il nostro periodo sul pianeta Terra. Voglio, anzi in realtà partiamo da quello che non sarà questo video, nel senso che avevo tutta un'altra idea per questo video, avrei voluto fare un video anche un pochino, come si può dire, non dico polemico, ma che volevo andare a sottolineare le storture della logica di questo ultimo anno. Poi ho deciso che no, basta, concentriamoci sul bello e guardiamo al bello e diamo energia, almeno il più possibile, solo e soltanto alle cose positive, che ci accade. E devo dire che in questo mi è venuto, mi ha dato una mano enorme, nel senso, a trovare il bello e a incontrare il bello Chandra Candiani, che è l'autrice di questo libro qui, dal titolo Questo immenso non sapere. Faccio fatica anche a commentarlo, nel senso che non trovo, forse ci sono, ma io non le ho, queste parole a disposizione per descrivere la bellezza di questo libro. Sicuramente un libro sognante, un libro molto anche poetico, forse un pochino, come dico io, un pochino da mondo degli unicorni, però perché no, anch'io ci sto bene tra gli unicorni e nel mondo degli unicorni. Quindi consiglio assolutamente la lettura di questo libro, perché io l'ho letto in un pomeriggio, forse anche meno, e poi l'ho riletto il pomeriggio dopo, perché davvero è riappacifica sicuramente con il cuore, con la bellezza e con tutto quello aspetto. Magari è capitato anche a te, in queste recenti feste, di ricevere un libro che ti ha sorpreso, che ti ha meravigliato, che ti ha riportato al bello e a vedere le cose in una certa maniera, in una maniera positiva. Se è successo scrivimelo nei commenti, che così possiamo aiutare anche altri a conoscere qualche libro in più e a trovare qualcos'altro di bello. Ti leggo un brano, che è uno di quelli che mi ha colpito di più, poi ripeto, è davvero bello tutto, però ho scelto questo. Ho sempre avuto la sensazione, scomoda e stupefacente, di non sapere niente. A scuola mi sembrava che anche studiando qualcosa le lacune aumentassero a dismisura, fino a farmi smettere anche solo di provare a colmarle. Restavo allibita dal mio non sapere. Lo stesso poi è accaduto con la letteratura e con la poesia. Più leggevo e più mi sfuggiva tutto di mano. Imparando a meditare, sono entrato in familiarità, lentamente lentamente, con il non sapere. Mi accorgevo che meno sapevo e più sperimentavo. E più tardi, cercando di passare agli altri la pratica della meditazione, mi sono accorta di come chissà o crede di sapere molto, sperimenta solo esperienze di seconda o di centesima mano. Di fatto non è mai in intimità con nulla, non trema davanti al non conosciuto e non si inoltra. Perché il sapere dell'esperienza non si può accumulare. L'esperienza inganna, come tutto il resto, se credi di poterla ripetere quando ti addentri nei territori del non conosciuto. Non ci sono primi della classe, né esperti, né maestri. Se non quelli che ti spingono a conoscere in prima persona, a ferirti e a medicarti. E al massimo si limitano a prepararti bende e cerotti, per quando sosti un momento e li guardi, disperato, negli occhi. La disperazione dei cani, quando non capiscono i nostri comportamenti, discontinui. In ognuno di noi c'è un cane spaventato dalla discontinuità dell'esperienza. Una buona pratica, preliminare a qualunque altra, è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciare andare il concetto di albero, strada, casa, mare, e guardare con sguardo che ignora il risaputo e vede. Ora. La pratica della meraviglia è una pratica che cura anche il cuore più ferito della terra. Si può andare a trovare un piccolissimo pezzo di prato, un pizzico di prato c'è sempre, anche in città. E guardare, a lungo. Si apre un universo minimo. Infinite vicende, mutamenti, arrivi, partenze, forme sempre più piccole man mano che lo sguardo si limita a vedere. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la paura. Che glielo vuoi dire? Direi che, appunto, esercitiamoci alla meraviglia, continuiamo a meravigliarci e a guardare tutto ciò che ci circonda davvero, con la meraviglia del bambino, con la meraviglia di chi lo sta facendo, assolutamente, per la prima volta. Se ti va, fammi sapere nei commenti quando è stata l'ultima volta che ti sei meravigliato di qualcosa, l'ultima volta che hai osservato qualcosa come fosse la prima volta, che sei riuscito ad entrare in quello stato lì del non conosciuto, sostanzialmente a vivere nel qui e ora. Per questo 2021 è tutto. Ti voglio lasciare con l'augurio, anzi, con la consapevolezza e non con la speranza, che il 2022 potrà andare meglio, solo se sarai tu a farlo andare meglio. Fuori e dentro, il viaggio continua. Namaste Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la via dell'amore e della verità ha sempre vinto. Ci sono stati tiranni, dittatori, macellai, e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono, cadono sempre. Riflettici Sempre Grazie 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 Grazie